Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal, dunque allerta gialla per piogge diffuse sui bacini grandi della zona C dalle 4 alle 23.59 di domani, venerdì 15 dicembre, perché sono riprese le precipitazioni sulle zone delle Vanti Ligure, in particolare dello spezzino coinvolte dall'evento dei giorni scorsi. Quindi è una zona con terreni già saturi e il deflusso dei corsi d'acqua principali, pur in diminuzione, resta ancora su valori superiori a quello di base. Dunque la previsione per fenomeni che interesseranno con maggiore probabilità lo spezzino è la zona del Magra. Andiamo a vedere le previsioni del tempo per le prossime ore. Intanto oggi, giovedì 14 dicembre, si instaura un flusso umido sud-occidentale che determina cieli coperti sul Levante con deboli precipitazioni sparse, possibili rovesci temporali e anche moderati in serata. Sul centro ponente prevalgono condizioni di nuvolosità variabile con qualche schierita pomeridiana. Venti sud-occidentali in rinforzo in serata fino a burrasca sugli estremi della regione da moderati a forti. Sul settore centrale l'altro dato riguarda il mare, agitato per onda lunga di Ilbeccio con mareggiate intense su tutti i settori, temperature massime in aumento lungo la costa tra 14 e 16 gradi, nell'interno tra 5 e 13 gradi. Domani, venerdì 15 dicembre, continua il flusso umido meridionale con deboli piogge sul Levante, altrove nuvolosità variabile, venti fino al mattino di burrasca da sud-ovest sull'estremo ponente a Levante. Mare agitato, molto agitato al mattino su tutti i settori, in calo fino a molto mossa ponente nel pomeriggio, ancora agitato a Levante. Temperature minime in aumento lungo la costa tra 8 e 12 gradi, nell'interno tra meno 2 e 6 gradi, massime stazionarie lungo la costa tra 13 e 16 gradi, nell'interno tra 4 e 11 gradi. Chiudiamo con sabato, 16 dicembre, nuvolosità variabile al mattino, sereno al pomeriggio, con qualche velatura sugli estremi della regione, venti deboli moderati settentrionali al mattino, in rinforzo fino a forti al pomeriggio. Mare molto mosso al mattino su tutti i settori, in calo a mosso a ponente. Temperature minime in diminuzione lungo la costa tra 6 e 8 gradi, nell'interno tra meno 2 e 3 gradi, massime in diminuzione lungo la costa tra 11 e 14 gradi, nell'interno tra 3 e 7 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti sul sito www.arpal.gov.it e sulla pagina Facebook di Arpal. A risentirci!